Ciao ragazzi, oggi nuovo giorno, appunto nuovo raduno a Bari. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Bene, anche questo video purtroppo si termina qui. Ringrazio tutti coloro che ci sono stati al mio raduno di Bari. Adesso vi aspetto per l'ultima tappa, il 15 settembre, in piazza del Club Iscito a Napoli. Con un ospite speciale, Valerio Valente. Bene, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e un bel commento sotto. Alla prossima.